Ah No, 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 guardi, no, non si può a me parcheggiare qui nel Camposanto, no, non si può a me Sbidicuda, supercazzola prematurata Eh? Non dico prematurata la supercazzola Non capisco Con scappellamento a destra Ah, le appelle, e le son la, guardi, a destra, la Ma qui non si può a parcheggiare No, volevo dire, è occhiello di privilegio come se fosse anteri per lei Ispettore tombale Ispettore, ma che dice? Ispettore Ispettore Con fuochi fatui E per quanto tempo sta qua? Quintana, ossetta Ah Intanto trinila con fraternità pulitina, eh, grazie Ah, una pulitina Buongiorno Buongiorno Quanto vengono questi gialli? Mille e cinque Mille e cinque Sì Questa Eh, questa